www.anteprima.com Ciao a tutti da Anteprima Cinema! Vediamo il trailer di oggi e subito dopo le notizie di cinema. Aiuto! Vieni da noi, vieni a giocare. Segui la X e saprai dove andare. Deve esserci una festa qui. E da parte all'uscita... Ma fai mi uscire! Ho posto? Più o meno stavo cercando una macchina. L'ascensore. Che cosa? Non entrare nell'ascensore. Chi sei tu? Domanda sbagliata. Rivoglio solo la mia medicina. Non si può fare. Deve chiamare la polizia. Che è successo? Là fuori ci sono due uomini che vogliono uccidermi. No! Due mondi di vampiri si incontrano in un film che non ha niente a che vedere con i vampiri. L'attore Cam Gigante di Twilight parteciperà al dramma indie Freeride insieme ad Anna Paquen che recitava come protagonista in True Blood. Michael Winterbottom vuole contribuire al fatto che ci sono così pochi film sui Beatles con The Longest Cocktail Party, ispirato dal libro di Richard Di Lello sugli avvenimenti più importanti ed interessanti della band di Liverpool. Forse Johnny Depp, nonostante sia americano e un po' troppo vecchio per la parte, interpreterà il ruolo di Derek Taylor, il primo agente dei Beatles. E per oggi è tutto, arrivederci da AC News!